Musica Gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno, ben ritrovati. Inizia questo ciclo di incontri sulla sicurezza degli anziani. Non farti ingannare è il titolo eloquente, una campagna di prevenzione voluta dal Comune di Belluno, da Sersa e dal Ministero degli Interni. E noi in questo primo ciclo di incontri ospitiamo l'assessore alla sicurezza del Comune di Belluno, Raffaella Damiano, che saluto. Buongiorno a Dombiano. Buongiorno. Non farti ingannare quindi una lunga campagna per sensibilizzare la popolazione su un tema molto importante, le truffe sugli anziani, che sono molte. Ma intanto è un'iniziativa dall'alto valore civile e civico, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, con due assessorati in particolare, il mio, l'assessorato alla sicurezza, insieme al collega Dal Ponte dell'assessorato ai servizi sociali. Do alcuni dati, poi spiego il senso profondo del nome dell'iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo, grazie a dei finanziamenti giunti dal Fondo Unico della Giustizia del Ministero degli Interni, circa 15 mila euro. Allora, la tematica è relativa a statistiche che ci sono state fornite dalla Prefettura di Belluno, d'intesa con la Questura di Belluno, nell'estate dello scorso anno. Quindi sono dati abbastanza aggiornati e recenti, tali per cui si registrano in provincia di Belluno, dal primo gennaio del 2022 fino al 31 agosto dello scorso anno, qualcosa come 97 truffe, potrei dire, normali, ordinarie. Insieme a queste 97 truffe, così come denunciate naturalmente, ve ne sono 79 cosiddette elettroniche online. 42 sono le persone denunciate che per una provincia dalla popolazione relativamente ridotta sono cifre assai significative che portano noi come amministratori pubblici a destinare la massima attenzione a quella che ho definito poc'anzi una piaga. Perché è stata chiamata campagna Non farti ingannare per 640 motivi? È, se vogliamo, un piccolo ma serio gioco di parole, nel senso che 640 è l'articolo del codice penale che disciplina e sanziona le condotte di chi pone in essere truffe nei confronti di chi che sia. Molto spesso l'anziano ha timore, pudore e vergogna di denunciare, cioè di esercitare quello che è un suo legittimo diritto a fronte di delinquenti che approfittano della sua fragilità, della sua vulnerabilità e quindi l'incitamento è quello intanto di stare molto attenti e guardinghi, ma poi qualora dovessero incappare malauguratamente nelle mani di questi soggetti, di denunciare immediatamente, poi le indagini faranno il loro corso e vi sarà un regolare processo con, si spera, la punizione con pena certa e sicura del coltevolo. Ci sono delle tipologie di truffe specifiche che magari sono particolarmente frequenti in questo periodo? Sì, sì. Io segnalo tre tipologie costanti. La prima è la truffa del cosiddetto falso avvocato, cioè di una persona che si presenta al domicilio dell'anziano, inventa una storia tale per cui un familiare dell'anziano ha avuto un problema che richiede un intervento legale, questo finto avvocato si propone di risolvere la questione in maniera molto rapida ed urgente previa ad azione di una somma di denaro. Il più delle volte presa dalla concitazione del momento la persona anziana si intimorisce, si spaventa, consegna il denaro a questo falso avvocato che poi utilizzerà il denaro per fini illeciti naturalmente, per un suo tornaconto personale che può poi la razza della norma di quella 640 che dà il senso dell'iniziativa. L'altra tipologia che si può verificare è proprio la truffa online con un annuncio su internet di vendita di beni in realtà inesistenti, c'è una ricarica con le poste pay che viene effettuata, il beneficiario della somma di denaro poi naturalmente non darà al suo interlocutore, al malcapitato il denaro o meglio il bene che aveva promesso di dare, quindi c'è un altrui danno con un profitto ingiusto in capo al percettore del denaro. L'altra tipologia di truffa che si può verificare è quella su cui io invito la massima attenzione al momento di andare in posta oppure di andare a fare un prelievo dallo sportello Bancomat di un soggetto estraneo che si avvicina al soggetto passivo del reato trova un elemento di comunanza, questa è una caratteristica che evidenzio, il soggetto che ha intenzioni illecite nei confronti di un altro soggetto trova sempre un punto di contatto, faccio un esempio, uno è interista, l'altro si finge essere interista per avere qualcosa di comune oppure un nipote in comune, qualcosa che colleghi due soggetti che faccia scemare in capo al soggetto passivo del reato la diffidenza e quindi veda l'estraneo non più come tale effettivamente ma come un interlocutore a cui dare fiducia. Ecco che in quel momento il soggetto allo sportello Bancomat appunto si inventa questa storia, vede perché è molto svelto purtroppo il codice PIN digitato e con qualche artificio era giro, si impossessa del Bancomat, morale della favola, il malcapitato si trova ingannato dal soggetto e derubato del denaro che poi in tempi rapidissimi l'altro soggetto, l'autore del reato percepisce attraverso lo sportello Bancomat. Queste sono alcune delle tipologie, non sono le uniche, non è un catalogo esaustivo ma sono talmente frequenti che vale la pena di porre attenzione su queste tre tipologie. Ecco Assessore, lei ci ha efficacemente descritto queste tre tipologie ma ce ne possono essere altre come diceva e quindi questa campagna mira anche ad un incontro con la popolazione e con gli anziani sul territorio ed è imminente l'avvio di questa campagna che durerà poi per più di un anno. Il primo appuntamento è un programma breve. Sì, noi abbiamo inteso fare delle tipologie di incontri cosiddetti frontali, auspichiamo, ci auguriamo che vengano tante persone non solo anziane perché poi la potenziale vittima delle truffe è prevalentemente anziana come ho detto ma non solo anziana, inizieremo il 28 di settembre alle ore 17 alla Sala Bianchi, il mio invito, il nostro invito è quello di partecipare in massa proprio perché verranno date con un approccio come dicevo multidisciplinare una serie di informazioni molto utili sul piano educativo e preventivo, l'aspetto giuridico, l'aspetto sociale, l'aspetto psicologico. La ringraziamo molto Assessore Damiano per queste utili informazioni e le auguriamo un buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi e vi aspetto numerosi, grazie davvero. Ma la campagna non farti ingannare per 640 motivi coinvolge anche l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Belluno e allora sentiamo le parole dell'Assessore Marco Dal Ponte. Assessore Dal Ponte, quindi prima con il collega Damiano abbiamo analizzato gli elementi che riguardano la sicurezza, ma ci sono degli importanti risvolti sociali in questa campagna di prevenzione nelle truffe agli anziani, perché gli anziani spesso sono una categoria fragile e quindi il coinvolgimento del Comune di Belluno con Sersa. Una campagna quindi con questa importante collaborazione per giungere a uno più risultati. Sì, il sociale, le politiche sociali, l'assessorato in particolare ci crede molto a questa campagna, è una campagna di sensibilizzazione importantissima in quanto l'assetto sociale dell'anziano negli anni è cambiato. Gli anziani in tempo si trovano all'interno di famiglie allargate, vi era una presenza costante di più persone, ora si trovano a casa singolarmente, quindi sono soggetti a una serie di truffe, non solo, anche di situazioni psicologiche particolari. Perché è stata coinvolta Sersa? Sersa è, al di là dell'attività di soggiorno per anziani, svolge anche la domiciliarità, quindi porta i pasti e entra nelle case degli anziani. Quindi ci sono all'interno di Sersa delle figure, educatori, comunque altre figure professionali importanti per accedere, per avvicinare gli anziani, per poter interloquire con loro. L'anziano una volta truffato fa fatica a segnalare, ad avvicinarsi alle forze dell'ordine. Perché? Perché si sente in una situazione di disagio, di disagio psicologico e quindi evita di fare questo, ma evitando di fare questo si pone in situazioni di fragilità e quindi all'eventuale successivo contatto a parte di tre fattori ricade nello stesso errore. Il Comune Capoluogo di Provincia Belluno ha in mano questa attività, con l'assessorato abbiamo detto alla sicurezza e con il collega Damiano. Assieme abbiamo portato avanti questa campagna che risulta fondamentale non solo per i Comuni Belluno, in quanto la pubblicità, quello che viene, le comunicazioni che sono state effettuate e che verranno effettuate anche nei prossimi giorni risultano a vantaggio di tutti i Comuni dell'intera provincia. Una delle condizioni principali è il denunciare, avere il coraggio di denunciare queste truffe e questo coraggio può venire dalla consapevolezza di poterlo fare e dal dialogo. Voi farete diversi incontri in cui anche la popolazione, quindi anziana, potrà intervenire nelle diverse frazioni del Comune di Belluno, vero? Sì, noi abbiamo previsto per questa progettualità anno 2023 cinque incontri. Il secondo, il primo incontro sarà alla Sala Bianchi, come è stato già anticipato e successivamente ci sarà un incontro nel Castionese, a Castion, poi ci sarà un incontro a Cavarzano, seguirà poi Tisoi e Salce. Prossimo anno effettueremo altri incontri presso altre località che noi abbiamo già visitato in questa progettualità. L'importante è avvicinarsi agli anziani, ma io direi non solo l'anziano, anche chi sta vicino all'anziano, chi accompagna l'anziano in modo da creare un sistema di cultura, culturale approfondito che si porta a diverse fasce di età. In questo modo riusciamo ad intervenire in maniera più efficace ed efficiente. Inizierò io con un breve incontro alla popolazione dove diremo un po' ci avvicineremo a questa fascia anziana e a tutti coloro che vorranno partecipare e farò una piccola breve introduzione. A questo seguirà uno sketch teatrale in modo da avvicinare le persone, coinvolgerle. Uno sketch mirato, divertente, ma nello stesso tempo anche molto profondo di significati. Poi seguirà l'educatrice, un'educatrice di Sersa che darà invece gli approfondimenti dal punto di vista sociale di questa fascia, seguirà poi l'assessore Adamiano con gli aspetti illegali e chiuderemo con un altro sketch. Il tutto si concluderà in 45 minuti, quindi non un tempo molto lungo e in una fascia oraria tale che gli anziani possano arrivare a essere accompagnati e rientrare a casa per la cena. Diamo un ultimo riferimento per gli anziani o per la popolazione che ritenesse opportuno avere maggiori informazioni su questa campagna. Come fare per saperne di più intanto? Allora noi abbiamo creato degli eventi comunicativi, tra cui al di là degli spot che vengono fatti attraverso Telebelluno Comune di Belluno, oppure attraverso la pubblicità ordinaria, abbiamo creato anche una brochure, comunque all'interno di questa brochure e anche negli altri eventi ci sono dei numeri di riferimento, numeri delle forze dell'ordine per contattarli immediatamente, per avere delle risposte immediate, numeri che si rifanno a Sersa, quindi alla struttura municipalizzata del Comune di Belluno, dove troveranno sempre un interlocutore. Abbiamo cercato varie soluzioni, quella radiofonica, quella televisiva, quella la pubblicità sugli autobus, quindi mezzi di trasporto. Siamo entrati nelle abitazioni delle persone con le brochure perché abbiamo inserito la brochure in alcuni quotidiani, quindi in alcuni settimanali che arrivano a casa di molti anziani. Abbiamo posto queste brochure nei vari punti importanti dove gli anziani per forza di cose devono passarci, ad esempio le farmacie, il medico di medicina generale e altri luoghi e quindi con questa campagna speriamo, il mio invito personale, è quello che gli anziani arrivino numerosi a questi eventi per capire questa problematica, ma per condividere anche un momento di socialità tra tutti noi e poi portare questo messaggio anche alle persone che non hanno potuto partecipare e venire agli incontri. Assessore Dal Ponte, la ringraziamo molto per il suo intervento, auguriamo a lei un buon lavoro. Ringrazio Tele Belluno. E a tutti voi gentili telespettatori e telespettatrici, arrivederci al prossimo appuntamento per questa campagna di prevenzione sulle truffe agli anziani. Grazie a tutti.